Qualità, anche imprevedibile, in senso generale potrebbe far comodo, è un giocatore che non gioca da tre anni, almeno, forse quattro, l'anno prima credo che venisse da noi pure avesse giocato poco, in rosso tantissimi giocatori che non hanno difficoltà a creare allenamenti più convogenti di tutti, quindi sarebbe inutile inserire in questo momento per poi avere gli stessi problemi per la settimana, perché non abbiamo grosse defizioni a livello fisico, nel tempo per gli attaccati.